Questa sera volevo affrontare un po' con i nostri invitati che vi presenterò tra due minuti la tematica della satira politica e della sua importanza nel dibattito politico e nella democrazia. Molto spesso si pensa che è moderna la satira politica, non lo è. Sto scrivendo per esempio un libro sulla satira politica durante il Paleolitico Superiore perché già 40.000 anni fa, 35.000 anni fa si faceva già satira e si ritrova la satira in quasi tutte le civiltà che si ha i sumeriani, che si ha i egiziani, i greci, i romani nel medioevo eccetera. E' diventata molto più popolare, molto più diffusa a partire dall'invenzione della stampa. E là per esempio durante il Seicento ci sono state delle battaglie satiriche tra i protestanti e i cattolici. Quindi la satira politica fa parte della nostra cultura da tantissimi secoli. Poi ha avuto un grande sviluppo durante l'Ottocento e durante il Novecento. Poi adesso sembra che i giornali, gli editori, i capire datori cominciano ad avere paura. perché i poteri, i grossi poteri che siano politici, religiosi o economici, non piace tanto la satira. Perché la satira ha per obiettivo di mettere il dito nella piega laddove fa male e nessuno ama essere criticato. Pure, questo è la democrazia, se non c'è critica, non c'è democrazia. E quindi è di questa problematica che vorrei parlare insieme a tre capo, quattro, pardon, capoeditori. Alla mia sinistra, Gian Paolo Accardo, che è direttore di un magazine in dieci lingue che si chiama Vox Europe, il quale pubblica ogni giorno delle vignette satiriche, politiche. Accanto a lui, True Slice, che è il capoeditore della rivista che voi vedete qua, che è una rivista giornale che esce ogni tre mesi e che contiene tantissime vignette satiriche in collaborazione con l'Ibex, appunto. Accanto a lui è Cerd Royards, che è un vignettista, tra l'altro vedete una delle sue vignette sulla prima pagina di Nittide, che è anche il direttore di un sindacato di vignettisti. C'è più o meno 700 vignettisti del mondo intero che mandano le loro vignette a Cartoon Movement, che è il nome del suo sindicato, che lui permette di provare di venderle alla stampa in tutto il mondo, più o meno. Poi accanto a lui, Michele Lippori, che è il capoeditore della rivista che avete potuto avere all'entrata, che si chiama Confronti, e che pubblica, pagina 46 ogni mese, tre vignette che appunto vengono da l'Ibex. Poi infine, ma non il meno importante, Oscar Bonamano, che è il capoeditore del web magazine della fondazione, che si chiama Pagina 21, e che pubblica ogni giorno due vignette satiriche. Credo che dalla creazione in marzo 2020 siamo a 2150 vignette. 2186 a stamattina. Bravo. Ok, quindi adesso vorrei presentarvi delle vignette che ci ha fornito Church Royals, di vignette che sono state censurate nella stampa europea e alcune nella stampa internazionale. Aspetta che devo arrivare alle vignette satiriche. se tu me le puoi. Aspetta che devo arrivare alle vignette satiriche. Aspetta che devo arrivare alle vignette satiriche. Allora, tutte queste vignette sono state censurate o hanno provocato dei problemi ai vignetisti e ai giornali. Questa prima vignetta è quella di un vignetista olandese che si chiama Joss Kolinion, che pubblica abitualmente su un web che si chiama The Walkstrand. e questa vignetta è stata criticata per antisemitismo, perché ovviamente è considerata così. La seconda vignetta è del stesso vignettista, Joss Kolinion, e ha condotto alla sua, se non mi sbaglio, è stato mandato via dal giornale in quale stava pubblicando. Questa è una vignetta appunto di Cirque Royards, che non è stata censurata, non è stata pubblicata, semplicemente, è del giornale True nel 2023, quindi è molto recente. Quelle di Kolinion, che abbiamo visto precedentemente, sono state pubblicate e censurate nel 2024. Quindi non siamo parlando del medioevo, ma veramente di adesso. E questa era una vignetta che è stata fatta dopo la vittoria del Gertz Wilders, del partito di estrema destra olandese. e l'hanno trovato troppo taliente, quindi hanno rifiutato di pubblicare. La spada è taliente. Sì, la spada è taliente, è vero, è vero, ma non ha tagliato nessuna testa questa spada, non ancora. Questa è una vignetta serba di un vignettista che si chiama Aleksandar Vucic, che ha vinto un premio a un concorso che ha appunto organizzato da Cartoon Movement, ma che è stato considerato come troppo critica per il presidente della Serbia. Finalmente gli organizzatori del concorso di cartoons sono riusciti a presentarla nell'esibizione e ha ottenuto il primo premio. Questa è una vignetta portoghese di una vignettista che abbiamo visto qua, che si chiama Cristina Sampaio, che è del 2023, e lei è stata proseguita dalla polizia per aver pubblicato questa vignetta. finalmente la proseguizione non ha funzionato perché l'ente responsabile della comunicazione in Portugale ha rifiutato di proseguire la causa. Questa è una vignetta un po' più vecchia di un vignettista ungherese, che si chiama Gabor Papay, che è del 2020. E là era una critica di una politica ungherese, che utilizzava la religione per fare propaganda per il suo partito e per il partito di Orban. è stata accusata di blasfemia. Ci sono pochissimi paesi in Europa che considerano ancora la blasfemia come un reato, invece in Ungheria sì. Da allora ci sono stati più processi e Papay ha portato la causa davanti al Consiglio d'Europa e alla Corte dei diritti umani e stiamo ancora aspettando la decisione della Corte. La seguente è quella di Ashraf Omar dell'Egitto, che è una vignettista e che è accusato di reati. Particolarmente non è piaciuto per niente l'aspetto, diciamo, sessuale e quindi è attaccato anche per tentativo di terrorismo. Non so come può essere terroristico questo. Terrorismo è un attacco terroristico alla morale. Esatto. Questo è una vignetta di Rashida Taneggia in India. Anche lei è stata proseguita a giudizio e siamo ancora aspettati. È del 2020. Ma la hanno utilizzato una tecnica giuridica per proseguire tutta la procedura di modo che lei avesse paura di essere condannata e quindi di non fare più questo tipo di vignette. In questo caso l'accusa è... L'accusa è... Non so, Chiaccio, you know why she was... For what, Rashida? Yes, I know, let me think it was... Let me think about which particular cartoon she... Because there's a documentary about her but because she's scared to face more repercussions she actually didn't show the cartoons in the documentary itself but I looked it up afterwards. Basically, they're both cartoons that have to deal with with the governing party of India and the fact that in her view the governing party and the Hindu population, the Hindu part of the country is getting too much power and Muslims are repressed and both those cartoons dealt with that and I think she was... I think the charges are inciting to hatred or something like that it's what you see often in these cases you get like very vague charges of inciting to hatred or supporting extremism, stuff like that and the court case is still pending so there's a delay tactic going on and it's just going on and on. And問題 is... And this is... Questo è stato una vignetta di un PALESTINESE che lavora inhouse and 영상 come giornalista e cartonista e anche lui non solo è stata censurato ma lui è stato imprigionato imprigionato per più giorni e anche là è sotto accusa. Poi tre vignette che sono molto conosciute perché questa è di Antonio Antunes, questa è stata pubblicata nella versione internazionale del New York Times e a causa di questa vignetta il New York Times che ha subito molta pressione dai partiti estremisti israeliani hanno deciso di non pubblicare più mai vignette satiriche e questo è stato un primo grande passo perché il New York Times era considerato come favore della libertà di espressione eccetera eccetera e quindi a partire da questo momento tantissimi altri giornali americani hanno cominciato a decidere a mandare via i loro vignettisti e a non pubblicare più vignette satiriche. Questa la conoscete, la vignetta di Mario Natangello che è stata pubblicata nel Fatto Quotidiano nel 2023 al seguito del quale la famiglia Meloni ha deciso di proseguire e di fare una causa giuridica contro Mario Natangello e contro il giornale. Questo si chiamano i slap, cioè l'utilizzo di un giudice per fare paura a contraddittori, critici eccetera eccetera. E questo è molto corrente purtroppo in Italia. Infine questa è una vignetta di Steve Bell che è stato per 35 anni il vignettista del Guardian che è supposto di essere in Inghilterra il giornale il più liberale, il più a favore della libertà di espressione e questa vignetta non l'hanno pubblicata ma hanno mandato via il vignettista dopo 35 anni di lavoro con loro perché è considerata come antisemita, allora che è una vignetta che è un utilizzo di un'immagine che è stata fatta di un cartoon che è stato fatto da David Levin nel 1963 con il presidente Johnson e quindi non ha niente da vedere con antisemitismo eccetera è solo l'utilizzo di una cosa che dovrebbe essere conosciuta. In ogni modo Steve Bell è stato licenzato. Ok, abbiamo fatto questo giro perché volevo chiedere a ognuno dei capire datori che sono qua e voi avreste pubblicato queste vignette? Se sì, perché? Se no, perché? Gian Paolo, iniziamo cosa poi faremo nell'altro senso. Buonasera, grazie. No, credo che non le avremmo pubblicate tutte, alcune per motivi geografici, ci sono regioni delle quali non ci occupiamo, tipo il Medio Oriente, quindi problema risolto se vogliamo e così ci siamo tolti la patata bollente più calda che ci sia da mezzo. Una l'abbiamo pubblicata, quella di CERT con Ekerth Wilders e la spada e la passerella per commentare il risultato delle elezioni europee di giugno, quindi ci sembrava che la illustrasse a meraviglia. Altre, forse no per questione di gusto personale o perché non ritenevamo che sarebbero state le migliori per illustrare un articolo. Quindi non è una questione di linea rossa, è una questione di gusto, di preferenze nel tipo di disegno o cose di questo genere? Sì, ne direi decisamente. Ci sono disegnatori il cui tratto, per esempio, non ci piace particolarmente, tendiamo a evitarli, potrei fare un po' di nomi qui ma non mi sembra il caso. Altri con i quali siamo più indulgenti perché magari ci piace molto il suo tratto e li troviamo particolarmente bravi. Diciamo che il criterio... Intanto abbiamo un sacco di scelta, di disegni possibili, sia per illustrare gli articoli come facciamo quotidianamente che come disegno della settimana, cioè un disegno, una vignetta che usiamo con un commento molto breve, solo per dare contesto, per appunto illustrare il fatto che ci sembra più importante della settimana trascorsa. E di solito c'è parecchia scelta, quindi possiamo anche proprio scegliere quello che ci piace di più in base a criteri prettamente editoriali. Ci sono dei limiti che ci fissiamo? Ma intanto noi andiamo a pescare le vignette che pubblichiamo nella base di Cartoon Movement, essenzialmente che è il sito, la piattaforma che gestisce, e di solito sono disegni di qualità, quindi il problema non si pone troppo. E li scegliamo con lo stesso criterio con cui sceglieremo di pubblicare un articolo, cioè l'interesse, la pertinenza, la qualità intrinseca del disegno, e la capacità a sintetizzare un evento, e possibilmente senza aver bisogno di aggiungere troppi elementi di contesto. Questi sono gli elementi di cui teniamo conto. Spero di aver risposto alla tua domanda. Più o meno. Se poi è meno, posso aggiungere. No, no, vabbè. Chiediamo a Truls. Would you have published any of these cartoons? If yes, why? If not, why? I think in Norway there is, we are a little below the radar, so there is something freer with the modern times, as we say in English. So I think we have a minority of more kind of intellectual readers, and they are not so offended, because there is a lot of freedom of expression in Norway. We don't have an authoritarian leadership or people going after us. And you maybe know that in Norway we had this cartoon about these Muslims, the suicide bomber that was going up to the clouds looking for the virgins, making fun of religion, and this guy got death threats with protection of the police and things. So in Norway we maybe have a more liberal tradition for cartoons. I think of this, what you showed here, I, most of them I think we can, because we have this anarchistic kind of attitude, very open for criticism. Maybe the sexual one is giving some other thoughts in the mind of people. We are much more political, like the Netanyahu we saw in the, of course we could print that kind of things, and also against the military-industrial complex, which we see all the time now. We are one of the few peace or anti-militaristic newspapers in Norway. So that kind of, and it's a little taboo in Norway actually, to not help the weapon industry about Ukraine and things. So we are against the weapon industry a lot. So that kind of very radical or criticism of weapons, but that's maybe okay in other newspapers too. But in a way we are kind of alone in Norway, but with the small audience we can do whatever we want in a way, because we don't get that kind of reactions. In the mass media they will be different, of course, they are much more driven by the money machine of having subscribers. Yeah, so we are more free. Michele, per confronti, how do you make the choice of the vignette of the page 46? All right, the idea of the page 46 is just to have a bunch of vignettes, or to comment fundamentally, of artists and artists from all over the world, so it's just to accept different points of view, from all over the world. The majority of our authors write in Italian, not necessarily all of us are Italian, obviously we have many interviews, even people from all over the world, but it's important to have a different point of view. different. Okay, sorry. Diciamo, l'attitudine al confronto, dal tono della rivista si chiama Confronti, è proprio insita nell'idea della nascita della rivista, cioè nel senso, già come è nata la rivista, presuppone un'attitudine al dialogo. La rivista, per chi non lo sapesse, nasce dalla fusione di due riviste diverse, negli anni 70, una cattolica di base, quindi i cattolici del dissenso, e un'altra protestante. Da lì si fondono, fanno una rivista unica, e quindi diciamo che in redazione ci si scontrava anche molto spesso su quelle che erano le problematiche dell'ecumenismo e del dialogo ecumenico, per poi fondare Confronti, che è una delle prime riviste interreligiose, che tratta l'argomento religione da un punto di vista pluralistico, mettiamola così. Quindi, la pagina 46 nasce proprio con questa idea. Alcune di queste vignette probabilmente non le avremo scelte. Perché? Esatto, parlando proprio della patata più bollente, nel senso, quindi il Medio Oriente, che invece per noi è un argomento che trattiamo molto frequentemente, quindi il conflitto israelo-palestinese, nello specifico, ma non solo, è una cosa a cui diamo molta attenzione, e oltre alla pubblicazione di articoli abbiamo dei progetti proprio di dialogo in Medio Oriente fra israeliani e palestinesi da decadi, cioè da 30 anni come minimo. Dipende anche forse il contesto, nel senso, tra l'altro, uno degli ultimi articoli dove abbiamo ospitato vignette proprio su questo argomento l'abbiamo fatta insieme, in una tua intervista. Esatto. In quel contesto, per esempio, l'abbiamo pubblicata. Abbiamo pubblicato vignette di Fadi Thun, di Michel Kishka, anche perché rappresentava un modo di mettere a confronto due diverse narrazioni. In quel contesto era importante mostrare, ed era proprio, tra l'altro, il focus dell'intervista, cioè mostrare quanto fosse difficile poi in realtà trovare dei punti di dialogo anche tra persone che sono abituate a farlo, tra l'altro collaborano insieme, cioè stanno all'interno di stessi contesti lavorativi, e sono sicuramente persone che vogliono avvicinarsi in qualche modo, però, appunto, ovviamente mantengono un loro punto di vista. e quindi in quel contesto abbiamo scelto di farlo. Probabilmente, poi dipende dalle vignette, naturalmente, però una vignetta, facciamo un esempio, magari in cui c'è, non lo so, forse senza un contesto potrebbe essere forviante, ecco, mettiamola così. cioè, quindi lasciarla solo nella pagina senza un contesto in cui si spiegano queste cose potrebbe essere un po' più, per la natura del giornale, però, in realtà. Oscar, pagina 21, come fai per scegliere le vignette che tu pubblici ogni giorno? Sono molto d'accordo con l'ultimo intervento sul contesto, in senso, bisogna capire qual è la rivista che uno dirige, no? Io dirigo una rivista che è pagina 21, che è la rivista della Fondazione di Bagno e quando mi è stato chiesto di fare questa rivista che potesse in qualche modo esplicare la politica della Fondazione, io ho risposto, ovviamente, con un progetto editoriale e con un'indicazione. E ho detto dall'inizio che io avrei voluto fare una rivista di cultura politica, cioè una rivista che creasse nel lettore le condizioni per orientarsi politicamente in un campo che è quello progressista. Ora, avendo chiarito questo aspetto, è evidente poi che, appunto, la differenza in queste cose la fanno le persone. In questo caso, in questo momento, sono io il direttore e quindi sono io che scelgo gli articoli da pubblicare, che commissiono gli articoli. Cioè, che tipo di articoli... No, ovviamente non li scrivo io, no, però che tipo di articoli voglio, che tipo di situazione voglio rappresentare. E la stessa composizione degli autori di pagina 21 sono degli autori che nella loro interezza, cioè, quindi, guardandoti la rivista, ti fai un'idea, almeno dal mio punto di vista, di un mondo progressista possibile. Ora, fatta questa premessa, io ho la possibilità, per fortuna di Libex, di scegliere tantissime vignette. Allora, che tipo di vignette scelgo? Scelgo quotidianamente due vignette, come abbiamo detto, ne abbiamo pubblicate fino ad oggi, 2186, proprio perché le vignette, a differenza di tutti gli altri articoli, non hanno una spiegazione. Cioè, sono messe lì e l'utente nostro le va a vedere e non ha un contesto di riferimento di scrittura, di contesto in cui si inserisce la vignetta. Io cerco, mi ispiro almeno, cerco di ispirarmi nella scelta quotidiana delle vignette a rappresentare quel campo. E quindi, per esempio, rispetto alla mia sensibilità, facciamo un esempio riferito anche alle vignette censurate. Per esempio, tutte quelle vignette che affrontano la questione religiosa, ora, non c'entra solo l'Islam. Allora, io dico, per esempio, questo è un tema che nella nostra rivista non abbiamo affrontato molto, la questione religiosa, ma non perché non sia importante, perché il pubblico a cui noi ci, il lettore a cui noi ci riferiamo e quello che noi vogliamo indicare è la costruzione di un campo in cui, almeno in Italia, in questo momento, la dimensione religiosa, dal mio punto di vista, non è determinante. Cioè, non è discriminante, non è divisiva. In Italia è tutto divisivo. Questo è un tema... Allora, per esempio, io tendenzialmente ne abbiamo pubblicate pure tante di vignette a sfondo religioso, però, se ci dovessero essere delle vignette che possono indurre dei pensieri, diciamo, che tu non puoi collocare nel contesto in cui sai, io ci penserei. Tendenzialmente io, diciamo, le vignette che tu hai fatto vedere le avrei pubblicate tutte, perché, diciamo, non troppo... Tra l'altro ne hai pubblicate anche alcune di queste. alcune di quelle le ho pubblicate, però voglio dire, come principio, io sono molto d'accordo sul fatto che si può pubblicare tutto, però devi considerare il contesto e anche il lettore a cui ti riferisci. Noi abbiamo fatto, e concludo, molta fatica in questi due anni, molta fatica, nel senso, abbiamo costruito in maniera cosciente il nostro lettore, noi abbiamo tantissimi lettori, io devo dire, mi meraviglio ogni volta del numero di lettori che abbiamo, pur avendo una rivista online in cui io, quando chiedo di scrivere dei pezzi, chiedo che i pezzi siano non meno lunghi di tre cartelle, quindi esattamente il contrario di quello che si fa normalmente sul web, in cui si chiedono testi brevi, in cui si leggono solo i titoli. Invece noi stiamo andando in una direzione opposta, cioè ci stiamo costruendo un lettore di riferimento capace di leggere, approfondire e di riflettere. Quindi in questo contesto anche la vignetta dal mio punto di vista deve accompagnare questo percorso. Detto questo io le avrei pubblicate tutte e molte le abbiamo pubblicate. Quindi se ho capito bene tutto quello che è stato detto fino adesso, nessuno dei nostri invitati ha una linea rossa politica, avrebbe solo una linea rossa legata da una parte al tipo di giornale che sta pubblicando alla sua linea editoriale e poi al suo gusto come capoeditore in termini diciamo estetici. E questo è molto interessante ma voi siete tutti capieditori di una stampa che non è una stampa di grandissima diffusione e avete anche il vantaggio di essere più o meno liberi da qualsiasi tipo di capitale. diciamo e quindi nessuna pressione in questo tempo. Ma adesso vorrei chiedere a C.L. Royals che lui è in contatto con tantissimi giornali e stampa come tu stai come stai sentendo la situazione attuale cioè è facile vendere le vignette è facile vendarle a tutti o il tuo pubblico in termini di giornali che pubblicano è limitato a un certo tipo di giornali hai delle difficoltà a fare pubblicare delle vignette nella grande stampa eccetera qual è la situazione come la vedi tu come offerta come offerta diciamo di vignette satiriche politiche politiche yes I think in general it's becoming more difficult so you asked me to select these 10 cartoons and when you wrote me the email you said it would be nice if there were some European examples well actually I was surprised that almost all the examples that I could find were European and these are just from the last three years so that kind of gives you an idea of how sensitive political satire is becoming and obviously it's still an exception in Europe which cartoons lead to complaints or to court cases or harassment but it does have an effect on the space cartoons have within the newspaper and how editors respond to cartoons and it means that editors are getting more sensitive so if you're looking at newspapers and magazines I think editors are becoming a bit more timid so they'll they'll be more conscious of the possible consequences of cartoons and that means that is also reflected in the choices they make so that's not good for the profession in a sense that I feel cartoonists should produce sharp satire and should toe the line so that's one aspect and then the second aspect is purely the economic one so I've been in the business with cartoon movement now for ten years and in the last years the first time I did inflation correction because I just couldn't before and even now every year prices are going down per cartoon so I sell I sell more cartoons each year so the business should be flourishing but the payment per cartoon is going down and I get so many requests for can we lower the price can we get a special discount if we buy in bulk do we get a discount can we get a subscription can we get a discount so it kind of shows and you know I'm not saying that to bad talk editors because they work with budgets as well but it's really difficult to negotiate a price that will actually get a cartoonist a decent amount of money that will actually allow the cartoonist to be a cartoonist and to not have to do other things so yeah so it's a really challenging environment and I would like to ask the question to many editors maybe not Oscar because he does not pay for the vignette but I would say you three who pay for the vignette is there a balance for the vignette superior to what would be for the photographs for example or for an illustration what is the policy of your journal because it's not that you pay much for a vignette but you pay something because there are always less media that pay for the publication of a vignette how do you organize the economy of your journal vis-à-vis of the vignette or other type of illustration I begin with Michele Allora una domanda particolare nel senso sicuramente è importante per prima cosa tenere a mente che il lavoro si paga e questo mi sembra già un punto di inizio importante non scontato purtroppo la nostra scelta è appunto poi tra l'altro di avere uno spazio fisso per le vignette che tra l'altro parliamo della famosa pagina 46 naturalmente da dove diciamo fondamentalmente le vignette sono tutte prese dall'Ibex come ben sai però tra l'altro oltre a quella c'è anche un editoriale fatto a vignetta cioè ogni mese un'illustratrice che è Tawab Mohammed fa un editoriale di commento su magari un anniversario oppure una giornata che può essere la giornata del rifugiato cioè quindi porre l'attenzione su una questione che ovviamente è in linea con la nostra linea editoriale e proporla come come argomento che non è scritto ma è illustrato e sicuramente queste sono tutte cose che vengono messe a budget fare la distinzione anche con le foto in realtà è difficile perché secondo me è proprio lo stesso tipo cioè la questione anche delle fotografie come le vignette hanno lo stesso campo di problematica cioè sempre di più i giornali hanno fatica fanno fatica o chiedono sconti come si diceva nella possibilità di mettere delle foto belle foto però pagate poco non pagate proprio quello che cerchiamo di fare noi è il contrario poi si utilizzano ne parlavamo anche a pranzo con alcuni degli artisti che tra l'altro ospitiamo su confronti cioè ovviamente i giornali hanno dei modi per poter hanno dei bacini dove poter prendere delle fotografie magari o a basso prezzo o anche gratis però quello che facciamo noi è cercare poi di di dar nel caso in cui ci fosse un reportage per esempio fotografico pubblicarlo e pagarlo per quello che è giusto come le vignette del resto appunto e non ci sono vignette che tra l'altro non vengono assolutamente non pagate da noi Trolls what is the position of your journal how do you make how do you do you make a difference between photos illustration or cartoons as you know Terry we have an agreement with you and you are sending us some loads of a topic sometimes so it's very easy for us to choose the cartoons but as this is a newspaper with this broach format it's really big we sometimes have pictures like this over the whole page and this is usually from exhibitions or as we are more a book magazine we usually have from the publisher or from films we have free pictures we actually don't have a budget normally for pictures we only pay for cartoons yeah so but with this this statement as this old fashion newspaper which is actually done magazine could have been a small thing but we really like to have space for pictures so sometimes there is small ones sometimes there is really big over two pages there we have a little funny one starting up there but Freud I mean there is many different not so much in the second one but in the first one we have this is the picture here is one psychology made by you and there is space and air around them so but not all cartoons can be big you know because there may be some with big many details can be big like this one it's about the oil and plastic in the sea and the next page is also very good at illustrating if you go to the next page you will see two sharks with a plastic bottle in the front of the like hammer sharks it's the next one so our budget strategy is very simple we pay you and that's all not for pictures ciao paolo box europe si allora noi facciamo parte di quella categoria di pubblicazioni che supplica certi di fare uno sconto sugli abbonamenti e molto gentilmente lo fa ma siccome non siamo ingrati ci succede per esempio di fare delle serie di articoli magari con il sostegno di fondazioni o altre o altre ONG nei quali in questi progetti mettiamo anche un budget per le illustrazioni e in questo caso questo ci consente o di ordinare come si dice di commissionare delle illustrazioni originali in questo caso le paghiamo di più rispetto a insomma sono originali le paghiamo il prezzo pieno e di solito lo commissioniamo o a certo o a qualcuno del suo vivaio oppure le acquistiamo vignette già fatte ma all'unità quindi alla fine insomma le paghiamo di più e le paghiamo più o meno quanto le fotografie quindi un prezzo diciamo relativamente corretto secondo noi e poi ci sono le vignette singole che commissioniamo per per illustrare un pezzo che per il quale non abbiamo trovato una vignetta che ci conviene per la quale abbiamo un budget ci capita anche di commissionare lavori a dei vignettisti per conto di terzi magari una ONG una fondazione che vorrebbe fare una serie di articoli su qualcosa che interessa loro ma che noi non pubblicheremo oppure è successo una volta che la Confederazione Europea dei Sindacati aveva organizzato un evento e voleva che un disegnatore facesse una specie di storyboard dell'evento stesso quindi un racconto a fumetti o a illustrazioni dell'evento stesso abbiamo chiesto a un illustratore tedesco che l'aveva già fatto e che fa parte ancora una volta del vivaio di Cartoon Movement di farlo noi non ci abbiamo guadagnato nulla ma abbiamo dato la possibilità a un giornalista illustratore e vignettista di fare un lavoro quindi cerchiamo di essere i più ah poi c'è una non so quinta quarta categoria che sono invece i disegnatori che ci regalano le vignette perché gli fa piacere perché ritengono di essere già stati pagati a loro tempo dai giornali che le commissionano ed è difficile per un giornale come il nostro di no se non ce le fanno pagare diciamo che non insistiamo Oscar tu pubblichi senza pagare cosa pensa allora Oscar volevo sapere da te tu non paghi le vignette e che cosa pensi pensi che sarebbe possibile a un momento o un altro di pagarle o poi solo diciamo il tuo modello economico del tuo magazine è uno che non si può permettere di pagare perché questo sì allora intanto diciamo che non sono io che non pago la rivista nasce come dicevo prima è la rivista della fondazione di Vagno che è una fondazione a partecipazione pubblica che organizza una serie di eventi tra cui quello in cui stiamo qui che è un evento abbastanza costoso e che non ha entrate cioè è un evento che la fondazione realizza con i fondi che prende per favorire appunto la diffusione di quella cultura politica di cui si fa portavoce a cui è intestata un martire del fascismo che è Giuseppe Di Vagno la rivista quindi organizza non solo Lector in Fabola ma organizza Lector in Scienze cioè una serie di altre iniziative che hanno tutte la stessa caratteristica nella quale la fondazione mette dei soldi per organizzare questa cosa ma non ha nessun ricavo proprio per statuto quindi è una fondazione oggettivamente senza scopro di lucro la rivista ragiona in questi termini cioè la rivista è un amplificio si è sempre tentato in questi anni di fare una rivista prima cartacea poi quando la carta non è andata più bene diciamo hanno pensato il consiglio di amministrazione di provare a farla sul web per provare a rappresentare inizialmente le attività della fondazione quindi la rivista non ha un budget cioè io non ho un budget a disposizione quindi io non è che non pago perché mi voglio tenere io i soldi del budget della rivista in questo momento la rivista non ha un budget essendo la rivista uno spin off di un progetto che è stato finanziato i Granai della Memoria dove noi abbiamo fatto tantissimi spin off uno degli obiettivi che ha la fondazione tra gli obiettivi della fondazione è quella di capire con il tempo se è possibile dotare la rivista di un proprio budget ovviamente come si può dotare di un budget una rivista di una fondazione che non ha scopo di lucro e che è gratuita e che è su online come diceva prima Accardo cioè trovare delle fondazioni cioè trovare altre forme di finanziamento che possono sorreggere la possibilità di pagare il lavoro perché è giusto che il lavoro si è pagato allora in quel caso noi ci ragioniamo ogni anno quando si fa il budget annuale della cosa diciamo che dobbiamo capire se ci sono queste risorse ovviamente se ci fossero queste risorse io sono il primo al quale piacerebbe diciamo pagare non solo i vignettisti ma anche gli autori degli articoli tant'è che gli autori degli articoli sono tantissimi io sono partito inizialmente chiamiamoli così dagli amici del festival fondamentalmente cioè dalle persone che animano questo festival che hanno un loro perché cioè che nella loro professione si occupano dei temi che noi interessano e sono partito da questi per animare questa rivista per il momento diciamo funziona per quanto riguarda le riviste funziona perché appunto le vignette provengono dal centro che tu presiedi l'Ibex che è fatto di tante persone che sono qui e questo per esempio implica rispetto a quello che diceva prima a Cardo che noi io non sono in grado di commissionare una vignetta però cioè se io domani ho un articolo e fino adesso non mi è mai capitato di dire che ne so a Marilena Nardi piuttosto che mi fai una vignetta per questa cosa perché io sono il primo a non voler chiedere una cosa che non sono in grado di pagare per questo questo vale anche come una vignetta dipende dal contesto in cui diciamo viene inserita io spero che diciamo con il tempo si riesca a trovare delle fonti aggiuntive di finanziamento al funzionamento della fondazione che siano in grado di remunerare per quello che sarà possibile non solo i vignettisti ma anche gli autori abbiamo visto molto rapidamente perché c'è un consigliere d'amministrazione devi prendere il microfono perché sennò non è possibile di tradurre non ti avevo visto spero di aver detto cosa è giusto no scusate l'intrusione la rivista è gratis ovviamente e non c'è pubblicità la scelta della fondazione è quella di utilizzare la sua capacità la sua forza per produrre cultura e diffondere cultura gratuitamente cioè nessuno dei nostri servizi a pagamento quindi la logica diciamo così sulla quale si basa l'attività della fondazione è quella di utilizzare le risorse pubbliche e alcuni sostegni privati che riusciamo ad avere per fornire per produrre delle cose come Lecture in Fabula come Pagina 21 come altre cose in maniera gratuita questo è il concetto fondamentale questo concetto implica due cose implica il fatto che noi non cerchiamo fonti di reddito perché la fondazione non può avere fonti di reddito e che si basa molto sul concetto della donazione il volontariato quindi questo è chiarissimo a tutti noi quindi il motivo per il quale io non so se ci sarà mai un budget ma è proprio la nostra filosofia la filosofia della fondazione è quella dell'essere al servizio di scusate mi approfitto un attimo di avere questo microfono per chiedere a voi una cosa che mi incuriosisce molto in genere la censura è figlia del potere cioè il potere politico economico finanziario militare massonio non lo so la chiesa esercitano forme di censura in questa fase della storia però in cui viviamo esiste un altro tipo di non è formalmente censura forse ma sono quei meccanismi in cui un direttore di una giornata nazionale a grande diffusione non si pone il problema di quale potere va a toccare la vignetta ma di quale sensibilità di un'opinione pubblica che oggi ha strumenti di reazione e un'abitudine alla reazione anche da parte di sparute minoranze molto rumorosa quindi diciamo la politica di correctness che ci ha tanto sta diventando quella stessa forse cioè mi chiedo dal punto di vista degli editor quanto nella loro scelta di pubblicare o non pubblicare una vignetta sia determinata dal rapporto con il potere o piuttosto o anche e quanto anche dal rapporto con un'opinione pubblica che oggi ha un tipo di reattività che grazie ai social grazie eccetera eccetera è molto rumorosa e a volte anche fastidiosa inquietante eccetera scusatemi Marco Panara volevo dire giornalista di Repubblica e consigliere d'amministrazione della fondazione no effettivamente era una delle domande che volevo fare sulla pressione che si può avere dal pubblico e da quello che si chiama il political correct ma tutti i nostri rappresentanti qua non sono sotto tantissimo forse mi sbaglio sotto pressione di questo di questo genere e siccome abbiamo pochissimo tempo vorrei piuttosto discutere di un'altra cosa cioè dell'importanza della vignetta politica nelle vostre pubblicazioni cioè c'è voi volete pubblicare pubblicate delle vignette politiche nel vostro giornale quindi questo indica che a voi interessa e vorrei sapere rapidamente il perché vi interessa ciao Paolo vuoi iniziare perché è un genere giornalistico a sé secondo noi gli autori i fumettisti in molti paesi sono giornalisti con tanto di tesserino e producono quello che riteniamo essere un contenuto giornalistico perché illustrano commentano analizzano fatti che sono avvenuti quindi è un genere giornalistico perché le vignette fanno riflettere perché sono una forma di immediatezza che un lungo articolo può non avere il dono della sintesi e perché danno un punto di vista diverso da quello che può dare un articolo scritto su un fatto di attualità quindi direi appunto è un genere giornalistico a sé che noi vogliamo al quale vogliamo come dire che trattiamo come tale al quale vogliamo dare lo stisso come 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 editore è più di andare contro il potere non spingere le persone ma avere un tipo di empatia che l'audience anche sente quindi siamo inizialmente nei corpi delle persone e è una quick fix della comunicazione mi piace Michele? nel passato c'erano vignettisti che avevano collaborato con Confronti e con Novi Tempi prima per un certo periodo invece non c'era stata più questa finestra noi abbiamo voluto aprirla o riaprirla non solo perché come giustamente è stato detto è un genere giornalistico a sé stante ma proprio perché che poi è un approfondimento di questo che è stato detto ha una potenza diversa anche rispetto a un articolo non voglio dire maggiore o minore però è proprio un mezzo diverso cioè un'immagine può catalizzare l'attenzione su un problema in un modo diverso da un articolo scritto come appunto il parallelismo a me viene automatico ma questo è per la mia deformazione professionale come una foto una foto può si dice si può dire tante parole è vero è importante quindi dare spazio cioè in questo caso tra l'altro anche la creatività perché uno stesso tema può essere trattato in modi completamente diversi dalle persone che decidono di renderlo con un'immagine singola ed il bello è anche quello cioè certe volte magari abbiamo messo anche vicino nel senso vignette fatte da persone diverse proprio perché il loro tratto era diverso e quindi aggiungeva qualcosa rispetto all'altra quindi è importante ma abbiamo visto che scusa Oscar non passo per te perché dobbiamo fare in fretta abbiamo visto che la stampa e le vignette sono in crisi cioè Cerd diceva che il prezzo stava sempre diminuendo e quindi c'è un problema perché ci sono sempre di meno giovani artisti perché se non si può vivere con le sue vignette non si fa si fa un altro mestiere e quindi Cerd tu vedi questo tu nei tuoi settecenti ci sono qualche giovani o è sempre diciamo la vie guard cioè vignettisti di una certa età che continuano a fare un lavoro che hanno sempre fatto o tu pensi che c'è possibilità di avere dei giovani che entreranno in questo mercato con la diciamo la tecnicità con il sapere con le conoscenze sufficiente per fare effettivamente una una satira veramente significativa diciamo con un senso con un contenuto Again it's challenging I think we do have a number of younger cartoonists I would say all the cartoons cartoonism cartoon movement at least the vast majority of them is part time so they have to do something else whether it be illustrating or graphic design or other stuff besides cartoons and obviously the more time you spend on making political cartoons the better you get so and it also goes for young people especially young political cartoonists need space and time to develop their own style develop their satire and I think the biggest problem is that platforms are lacking both offline in print and online you have no platforms as young cartoonists where you can kind of flex your muscles as it will so my suggestion and my question to all the editors here would be and this is a question I always ask of editors is is there a possibility to create a spot for young cartoonists and the nice thing about young cartoonists is you don't have to pay them much but even if you pay them little the fact that you're adding to their portfolio and they can go to other publications and say hey I've published in Confronty and I have my own spot there every month or I publish in and I have my own spot there a couple of times a year will give them the platform or the little jumpstart they need to maybe get further in their career and this also would go for bigger publications for instance you could imagine a newspaper that doesn't have a spot in print that they would give a spot online for maybe less money but still to younger cartoonists to develop and I think we need that discussion in the media that we need more if we want political cartoons to continue we will need to create spaces for young artists to develop their skill as political cartoonists because it takes five to ten years to become a good cartoonist it takes a lifetime but to become at a professional level where you can publish the really big titles it just takes a number of years to get good at it can I ask a question since we have a lot of women here what about the female side you should maybe say something about the gender yes most definitely so create a spot for young cartoonists and make them all female because it's severely lacking yes that's the second problem it's the problem of representation we have a predominance like in this panel of white middle aged or old men that dominate the profession so the second discussion that we need about the future of political satire first of all is how do we bring on a new generation and how do we get a diverse group because if we do political satire and if we all agree that political satire is important it's also important that we hear different voices of satire and not only white men so that's definitely a legitimate question at least in our audience we have five cartoonists and two of them are women so it's already 40% so it's good it's very good now last question because I'm afraid we shall have to close the crisis of the written press is parallel to the crisis of cartoons and the competition is not with websites but with social networks where the information is title where people want to be very quick instead on your website or on your newspaper it's article that you've got to read and which take times now with artificial intelligence there is a new competition more important peer-ups than that of the social network because there is a possibility to write an article without passing through an intellectual or a journalist or a professional there is a possibility to make illustration without paying an artist to do that so how very briefly how do you see the future is it the end of the press is it the end of the intelligent press let's say or do you see any kind of have you got any kind of optimism for the future for press and for cartoons Charles would you like to I think since we are more in a little more philosophical or reflective magazine I think it's a long time before we see artificial intelligence taking over this kind of reviews and essays we are writing but maybe they will not take the place but nobody will read what you are doing because I want something else yeah lesser and lesser audience that's for sure when this instant three seconds attention is out there so that's a problem I'm just keeping on I think it's important to have that little kind of space still but artificial intelligence can do a lot they can also make movies or three minute things and it's a fake Mona Lisa can suddenly start to talk from the painting or you can make something from Gaza that really distorts the whole image of what's happening there I mean so it's a really dangerous thing with artificial intelligence that's for sure so you feel that your future is very delicate I think we will not survive too long I'm a little pessimistic in my optimism Michele speriamo di non arrivare al punto in cui diciamo l'intelligence artificiale diventerà non so tutte queste macchine che fanno prodotti culturali perché leggeranno dei robot a questo punto e noi invece lavoreremo tutto il tempo nelle fabbriche ormai siamo al paradosso a parte la battuta cioè l'intelligenza artificiale sicuramente può essere uno strumento ma non è uno strumento diciamo come gli altri cioè quindi ha sicuramente delle sue criticità sicuramente può essere un problema per chi lavora nel campo dell'arte e quindi lavora con la propria inventiva diciamo così detto questo non non vorrei essere così pessimista sinceramente cioè nel senso credo che ci sia ancora bisogno in tutti gli ambiti cioè dalla parola scritta all'arte c'è bisogno di chiamiamola sensibilità diciamo così cioè nel senso la questione tecnica non può essere l'unica cosa che conta sinceramente secondo quello che penso io quindi c'è ancora bisogno dell'essere umano per per tante cose quindi forse ancora non siamo sostituibili diciamo Gian Paolo ti senti in pericolo con i social o no i social no perché comunque i social vivono dei contenuti che vengono che vengono postati quindi direi di no noi li produciamo i contenuti se vengono riprodotti sui social tanto meglio per quanto riguarda l'intelligenza artificiale noi la usiamo anche regolarmente per aiutarci a tradurre i testi i traduttori che lavorano per noi la usano anche per aiutarsi a tradurre i testi quindi è piuttosto uno strumento utile un dilema pericoloso per gli interpreti e i traduttori no perché tutti usiamo degli strumenti che aumentano la nostra produttività o la nostra capacità a spostarci più velocemente o a fare delle cose meglio è veramente uno strumento non è uno scopo e non sostituisce l'attività umana anche per motivi di responsabilità editoriale se pubblichi qualcosa non puoi pubblicare una cosa appresa così come da una traduzione fatta con l'ausilio dell'intelligenza artificiale deve esserci un umano dietro che verifica così come deve esserci un umano che pilota un aereo il cui 95% della traiettoria del tragitto è stato fatto dal pilota automatico cioè ci vuole un umano che sia responsabile alla fine per quanto riguarda la produzione in particolare di vignette invece sono molto più scettico sulla capacità dell'intelligenza artificiale di produrre delle vignette che siano divertenti un po' perché se guardi i testi che produce l'intelligenza artificiale di solito sono molto piatti molto consensuali molto prudenti anche nell'affrontare tematiche diciamo delicate e l'arte del paradosso è proprio dell'intelligenza umana direi forse un giorno ci riuscirà anche dal punto di vista grafico ma dubito e noi comunque non pubblichiamo illustrazioni fatte con l'intelligenza artificiale perché abbiamo sottoscritto una carta la cui iniziativa era dell'artista britannica Molly Crabapple che ha prodotto un paio di anni fa una specie di carta editoriale per i media nella quale vengono fissati dei punti che i media si impegnano a rispettare fra i quali non usare dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale la quale si alimenta con contenuti originali prodotti da artisti vignettisti autori non ci siamo semplificati la vita perché le immagini generate con l'intelligenza artificiale costano zero o pochissimo se hai un abbonamento a una delle piattaforme che le generano e possono essere anche delle illustrazioni efficaci però finché non è risolto il problema dei diritti d'autore dei vignettisti e cioè questo vale anche per i testi scritti cioè di come remunerare chi ha prodotto contenuti che l'intelligenza artificiale ha utilizzato per generare testi o immagini finché la questione dei diritti d'autore non è risolta noi non pubblichiamo contenuti immagini generate in questo modo e appunto l'ultima domanda che farei a CERS appunto uno dei problemi sui social e su internet sono i diritti d'autore e tu hai appena fatto un caso giudisario nei paesi bassi appunto per avere un pagamento da Facebook puoi raccontare brevemente quello che è successo e quello che avete ottenuto Sì very briefly so since 2021 there is a European law that actually obliges Meta and other social media to pay a fee when work of artists or copyrighted work in any field is uploaded to Facebook so uploaded by third party so for instance if he uploads one of my cartoons I should get a fee for that from Facebook and obviously Facebook has not complied or has not done anything and the Dutch copyright organisation that represents visual artists and cartoonists they're actually the first in Europe to be fed up with this because they negotiated with Facebook for two years to make a licensing deal which would allow them to get a license free from Meta and then that would be paid out to all the visual artists in the Netherlands but Meta delayed and delayed and so they started a court case and we were in court on Thursday for the first hearing and it was a three and a half hour hearing it looked like the judges were kind of swayed by our argument so we had two demands one is that Meta would be defined as a platform because if they're a platform they must comply with this European legislation and they argued they're not a platform they're kind of a service and they just pass through content instead of hosting content but in a partial verdict the judge actually agreed with us that Meta is a platform and should therefore comply with this law so that's good news but the second part is going to be how can we determine what the economic value is of all this content that is uploaded by other people that is copyrighted either by me or by other artists and that's going to be a long long process so the judges were unsure how to determine that Facebook wants to use their own system the copyright organization in the Netherlands says well your system is flawed and basically it misses too much so it's going to be it's going to be a long process but it's going to be an interesting one yeah if you can survive for the time that it will last so I'm afraid we are very near from the end so I would like to know if there is if there are pardon debo parlare in italiano se ci sono delle domande da parte del pubblico a uno dei nostri hospiti si c'è una domanda in fondo viene quasi no David viens ici viens ici parce que l'interprete ne peut pas traduire si probably do it in English so if an interpreter can yes I have a question about the caricature with the Moroccan stealing from FIFA the World Cup I just wanted to know about the David star on the flag and why it was censored thanks for that question because actually that was the one cartoon I wanted to comment on because of all the cartoons all the 10 cartoons that one crosses a red line with me for a couple of reasons it's the way he portrays the Moroccans so what Jos does there is he uses a stereotype a well-known stereotype of a minority in the Netherlands because there's this stereotype that young Moroccan people are criminals and they steal and he uses that to make another point but I thought that really crossed the line and that it was negative and that's actually what the biggest controversy was about the other was the star of David on the Moroccan flag which was really weird he said that it was actually well yeah we can show it but it really looks like the star of David he said it was not intentional so he actually says and he actually made a Facebook post about it where he shows that it's actually the other star that it's just because of the way the flag is turned but I don't know what he meant by it I think he just made an honest mistake there yeah I think there's no meaning behind it yeah it's like really weird also devo fare una correzione ci sono sei vignettisti qua in this room ci sono sei vignettisti in questa stanza tre sono donne e tre sono uomini 50 50 we are 100 percent but in the room 50 50 ok so I'm afraid we've got to close this debate because we spend too much time it seems and I want to thank you for being there grazie mille per essere qua tutti e grazie all'interprete che ha fatto l'interpretazione di questa sessione buonasera a tutti buon appetito grazie Grazie.